Oggi, in questo pomeriggio di sole settembrino, lo IAT di Fornovo propone una camminata nel cuore del paese, nel centro storico, per riscoprire gli angoli di Fornovo. Fornovo non è solo la grande storia, dalla Sacca alla Battaglia alla Via Francigena, ma è molto di più. È la microstoria, la storia del quotidiano, la memoria del quotidiano, con la riscoperta degli angoli, dei personaggi e delle curiosità che hanno reso unico questo paese. Il trekking urbano che ci propone lo IAT partirà dal Sagrato della Chiesa per giungere alla piazzetta della Fontana, alla piazzetta Italo Pizzi e per risalire attraverso i borghi che abbracciano il paese. Questo incontro è molto importante, soprattutto perché giunge dopo un lungo periodo di distanziamento, appunto dato dal coronavirus. Donatella Canali, responsabile dello IAT, con le sue narrazioni ci indurrà sicuramente a delle profonde riflessioni. In particolare ci chiederemo se camminare per Fornovo e riscoprire il proprio paese sarà un modo anche per riscoprire se stessi. Ci hanno condotto lungo la scogliera, lungo Via Collegati, ci ritroviamo qui per qualche domanda ai partecipanti. Lei non è di Fornovo, da quanto abbiamo capito. Come mai ha scelto di partecipare a questo incontro, a questo trekking urbano? Cosa le ha interessato di questa narrazione e cosa ha scoperto di nuovo su Fornovo? Io sono qua perché ho un amico che vive a Vizzola d'estate e quindi mi ha proposto questo trekking urbano. Vengo da Fidenza e ho scoperto che siamo gemelli, nel senso che siamo situati sulla stessa arteria, sulla Via Francigena. Lo sapevo ma non lo sapevo in realtà, per cui sì è stata approfondita questa cosa e del resto comunque ho notato che ogni borgo per quanto piccolo ha una ricchezza straordinaria. È sempre una scoperta quindi sono molto contenta di esserci stato, veramente è un bellissimo modo di passare il tempo quando ce l'abbiamo libero. Lei arriva da Oltralpe? Sì ma vivo a Parma da parecchi anni, allora sono origini svizzero, sì questo è vero. E gli è piaciuta questa passeggiata? Cosa le è rimasto della narrazione, qualche curiosità o qualche aspetto storico? Tutte le cose che ha detto lei, io sono un po' interessato alla storia, meno un po' alla chiesa, allora su questo aspetto trovo interessante il mercato e il sviluppo di Fornovo e anche confrontando con la situazione di adesso vediamo come va avanti perché adesso io trovo purtroppo devo dire confronto agli altri come Borgotaro o come Colecchio un paese un po' morto. Purtroppo questa è una constatazione però insomma abbiamo persone che lavorano con tanto impegno ad esempio Donatella Canali. È stata una grande interprete del nostro paese oggi pomeriggio e concluderei dicendo che grazie alle sue narrazioni possiamo forse un po' più riflettere su quello che è lo sviluppo del nostro paese e magari ritrovare anche noi stessi camminando per il cuore di questo piccolo centro.